buonasera buonasera a tutti e benvenuti in questa nuovissima live questa sera ho deciso di fare un esperimento e quindi di provare a fare questa live su twitch quindi sono molto contenta vediamo come andrà questo esperimento questa sera purtroppo sono sola non ci sarà alessia perché non è stata benissimo e quindi è a casa tranquilla che si riposa ma dalla prossima volta non preoccupatevi che ritorneremo unite quindi davvero non preoccupatevi intanto ciao roberta ciao uffa che noia ciao lidia benvenute commentate scrivete così vi posso salutare e possiamo chiacchierare un po insieme allora appunto come vi dicevo regia hai picchiato dentro la telecamera che si è spostata ciao nifio ciao tutto bene state bene scrivetemi nei commenti come state allora appunto dicevo ale probabilmente ci seguirà sul divano con la copertina ma la novità di questa sera è un'altra perché comunque ale tornerà quindi non dovete preoccuparvi la novità di questa sera è che farò una live su twitch io non ho ancora guardato la puntata la guarderemo insieme perché su questa piattaforma posso guardare la puntata possiamo guardare spezzoni più lunghi è un test facciamo una prova se funziona poi la faremo anche insieme ad ale per cui vi voglio carichi e voglio dei feedback così sappiamo se rifarlo la prossima volta inoltre vi avviso che faccio la live questa sera non la faremo domani insieme all'ale al di là del fatto che lei si era affreddata ma perché da domani dovete assolutamente guardare le mie storie perché ci sarà una cosa andrò a fare qualcosa non posso dire di più e quindi ho anticipato ad oggi perché da domani per un bel due settimane abbondanti succederà qualcosa e quindi insomma dovete dovete seguirmi per scoprire che cosa farò e dove andrò allora questo è un esperimento vi ripeto per cui per tutte le prossime live successive vi diremo e vi daremo indicazioni sia se le faremo sempre su youtube e twitch se le faremo solo su twitch come ci muoveremo intanto questa sera è nuova è un esperimento per cui state con me e vediamo che cosa succede a magia ele la piace questa idea grande sono contenta e quindi anche a lydia per cui dai proviamo proviamo a vedere come va io direi di iniziare subito metto il video calcolate che questo è nuovo anche per me quindi non so esattamente che cosa faremo ma state qui con me e vediamo non anch'io mai visto la puntata per cui stiamo a vedere l'unica cosa che ho fatto è tagliare le parti dei cantanti sapete che io non commento la parte del canto non ho la mia amicale che commenta la parte del canto e quindi stasera faremo solo danza ma lei sicuramente vi farà la parte del canto per cui direi di partire subito vedo che tanti di voi non l'hanno vista la puntata quindi direi perfetto no assolutamente no non ci siamo lasciate assolutamente era solo un po' raffreddata e quindi capita ci sta ok allora vediamo mi posso anche mettere più grande vediamo un po' che cosa succederà vediamo un po' cosa succederà sebastian non è un caso che faccia entrare sempre lui secondo ciao mirosa buonasera bene wow che bello vediamo cosa succede è una statua sciogliti ecco infatti sienna doveva doveva andare in sfida e vediamo vediamo regia magari mi metti un po' più piccola no va bene questo sebastian non è un caso che faccia non è un caso che faccia entrare sempre lui secondo me pareva vieni qua c'è un filmato no vabbè regia magari mi metti un po' più piccola no va bene questo settaggio ecco vi pareva vabbè c'è da dire che comunque è un grandissimo bel ragazzo questo poco ma sicuro capita spesso nella danza che ci siano dei ragazzi molto molto belli ma a volte noi donne non non interessiamo questi ragazzi molto belli e quindi non c'è possibilità invece penso nel suo caso che possa essere interessato ma non si sa non si sa sì come ballerino sebastian mi piace e ho fatto un video su di lui e su simone lolasco come professionisti lo trovate già sul canale magari qualcuno di nuovo che non abbiamo mai visto no non è qualcuno di nuovo comunque stavo pensando una cosa il fatto che dicevano che sarebbero cambiate tante cose qualcuno qualche cosa l'abbiamo vista cambiare però come a livello di giudici e a livello di altre cose non tanto una cosa non mi ricordo scrivetemela nei commenti l'anno scorso gli ultimi due classificati di canto e di ballo andavano in sfida subito cioè la puntata dopo o poteva scegliere il professore non poteva scegliere il professore infatti non andavano subito in sfida ma poteva scegliere il professore di appartenenza io mi ricordavo così quindi questa è una novità per i giudici invece no beh lei ci piace alla puntata successiva sì no comunque andavano in sfida la puntata successiva però mi pareva che potesse scegliere il professore no non mi ricordo esattamente fatemelo sapere con il ballo sì sempre chissà perché adesso iniziano sempre con gli stessi boh forse potrebbe esserci una motivazione rispetto che bello elegantissima mi piace bella mi piace molto elegante no dicevo forse inizia lei per una questione di scarpe e pavimento magari gli altri poi le rendono il pavimento più scivoloso non lo so vediamola bella molto musicale bella e ha un carisma questa ragazza incredibile bella io vi dico secondo me lei ha studiato danza classica sicuro wow una bellissima bella 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 mi piace sempre di più Alessia veramente è una scoperta ogni volta esagerare no no però era ma vedi ecco secondo me ha fatto danza classica su questo secondo me ho fatto danza classica per quale motivo perché abbiamo visto dei bellissimi slanci della gamba abbiamo visto i giri molto precisi non solo questa volta ma anche la volta scorsa quindi a livello tecnico un giro è sempre un giro un giro è sempre un giro un batman è sempre un batman quindi le coordinate di base sono quelle che poi tu cambi forma al movimento e cambi magari alcune caratteristiche va bene ma quello è cioè il giro si gira così lo slancio si slancia così e quindi da questo punto di vista siccome li ha fatti bene tecnicamente e soprattutto anche a livello proprio di dinamica del passo sapete ogni passo ha una dinamica ok non potremo mai avere un giro con una dinamica prevalentemente lenta perché altrimenti non riusciremo a girare su noi stessi ok questo è solo un esempio però ogni passo ha la sua dinamica e infatti lei riesce a fare bene ogni dinamica dei passi poi ha un utilizzo delle braccia bellissimo molto ampio cioè vedete che occupa tutto il palcoscenico le muove in modo molto articolato e anche a livello stilistico c'era io non sono un esperto di latinoamericano ve lo ricordo sempre perché questo è importante però a livello stilistico c'era veramente si vede che comunque i movimenti erano curati ed era riconoscibile ok che fosse appunto un passo poi a livello interpretativo stupenda cioè c'è poco da dire riesce sempre ad essere perfettamente brava nell'interpretare una cosa interessante che volevo dirvi abbiamo visto che nelle altre coreografie lei era sempre molto sorridente ok con questa energia molto estroversa eccetera eccetera qui leggermente diverso perché ovviamente era una tipologia di danza diversa una coreografia diversa quindi come era questa volta era un pochino più intimo anche la modalità in cui noi posizioniamo il nostro corpo è fondamentale ad esempio vediamo se riesco a tornare un pochino indietro e mentre parlo farvela vedere portate pazienza perché io sono un po' cioè sono nuova questa cosa quindi spero di riuscire a farvela vedere bene allora osserviamo adesso se parte si dovrebbe iniziare adesso allora osserviamo esattamente la sua modalità di movimento per quale motivo perché il modo in cui una persona pone il suo corpo comunica tanto quindi questa coreografia era più in questo modo quindi uno sguardo un pochino più introverso in alcuni punti in altri punti estroverso un utilizzo molto ampio dell'epleman cos'è l'epleman? vi ho fatto un video che è uscito proprio oggi mentre spiego le direzioni della danza l'epleman, la testa eccetera eccetera comunque è una rotazione delle spalle ecco usa tanti epleman tipici assolutamente delle danze spagnole in particolare danze di carattere spagnole e anche di questo stile e questo ci comunica tutt'altra ok tutt'altro vibe, tutt'altro mood quindi questo utilizzo, questo riuscire a tornare dentro se stessa tra virgolette quindi risultare più anche sensuale da un punto di vista perfetto cioè abbiamo visto che non sa solo essere gioiosa, estroversa e catturare il pubblico in questa modalità ma anche così ecco guardate, guardate subito parte così e poi si alza e nonostante siano ampi i movimenti comunque è sempre tutto molto giocato su queste direzioni ok? il salto molto bene mani ben curate qui la dinamica era perfetta questo envelope Batman molto bello ampiezza centi rapidità molto rapida in questi giri ma la testa sempre focalizzata belliscene questa bellissima e anche l'atteggiamento del bacino tipico proprio di questo stile di danza quindi direi veramente nulla nulla da dire il giudizio l'abbiamo sentito e sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto lui quindi direi di passare alla prossima Chiara che vedo già diversa in questo stile vediamo vediamo ah vabbè ok bella molto lunga bene i giri qui siamo nel jazz modern jazz fatemi sapere che cosa vi ricorda questa coreografia e la musica più o meno belli bellissimi questi eh bello chiudiamoli bene eh solo per dire perfetto ha avuto un piccolo tentennamento finale vediamo ecco nei primi allora eh sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto Clady assolutamente nel senso che ovviamente lei viene dalla danza classica e ve l'avevo già detto in altri video per chi fa danza classica e solo danza classica o comunque è impostato sulla danza classica quando deve fare qualcosa di diverso che sia modern jazz che sia modern contemporaneo eccetera eccetera non parliamo poi dell'hip hop risulta tanto tanto in difficoltà ma la cosa interessante è che lei tecnicamente le basi ce le ha tutte tecnicamente o altro che basi lei è a un livello ovviamente avanzato quindi tutte queste nozioni tecniche che ha le può mettere al servizio di uno stile diverso in questo caso il modern jazz quindi è stata brava nel senso che tecnicamente era pulita quello che le mancava era un pochino di scioltezza come ha detto Clady però vi devo dire che dalla scorsa volta a questa performance c'è stata già una crescita molto grande perché non so se vi ricordate la scorsa performance a livello facciale non c'era era come se fosse disconnessa a livello tecnico era bravissima ma ancora più diciamo controllata di questa volta quindi questa volta già abbiamo fatto un passo avanti si è già un pochino sbloccata e inoltre ha incontrato maggiormente quello che è lo stile modern jazz con questi swing adesso vi rimetto magari la coreografia così la guardiamo mentre vi racconto però assolutamente lo stile c'era ok non era perfettamente calata però lo stile l'abbiamo visto ok ecco vabbè questi vedete questo de l'opè già ha riempito tutto ok perché è perfetto tecnicamente molto bene è già il viso un po' meglio anche il corpo un po' meglio qui tecnicamente benissimo eccolo sì diciamo che ovviamente si poteva fare quell'attimo di più cioè tutto poteva essere esasperato un po' di più per avvicinarsi ancora di più appunto all'idea di questa coreografia comunque si riferisce proprio a fame saranno famosi tecnicamente non c'è nulla da dire quindi veramente cioè molto molto bella molto bella deve proprio esatto deve come dice Silvia siamo d'accordo assolutamente Silvia deve un attimo togliere questa rigidità e avere sicuramente un pochino più di energia ma devo dirvi una cosa secondo me non è neanche troppo questione di energia nel senso si deve avere più esplosività e andare un pochino più all'attacco ma non significa che lei non ci sta mettendo l'energia giusta significa che sta ancora troppo controllando il movimento venendo dalla classica ok semplicemente questo però una ballerina così ragazzi qualsiasi compagnia di danza la prende cioè perché una ballerina così tu le puoi fare fare qualsiasi cosa l'importante è che sia capace di adattarsi velocemente di apprendere un nuovo stile velocemente questo dobbiamo capirlo però secondo me dalla scorsa volta a questa ha già fatto un grandissimo miglioramento quindi direi di sì l'idea ti è piaciuta di più Alessia e perché comunque a livello emotivo ha comunicato tanto Alessia e poi è stata è stata molto 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 brava sì decisamente più espressiva davvero la prima volta che fa un genere non suo va benissimo certo non sappiamo esattamente se è la prima volta però immagino comunque immagino una cosa volevo specificarvi rispetto al video di commento della seconda puntata ho messo anche dei reel eccetera quando ho parlato del fatto che la differenza tra un atleta e un ballerino è emozionare non significa che un atleta non emozioni ok ma sono due tipi di emozione differente ci tenevo a specificarlo perché c'è stata un po' di confusione nei commenti e si diceva appunto no ma ci sono un sacco di atleti che ovviamente emozionano assolutamente cioè il gesto tecnico di qualsiasi sport emoziona è chiaro però sono dei tipi di emozioni differenti e nella danza appunto parliamo proprio di una disciplina artistica per cui ecco perché abbiamo detto che Deborah io ho ripreso quello che poi ha raccontato Deborah quello che emoziona è l'artista ed è un po' la differenza con l'atleta perché sicuramente per l'atleta il suo primo obiettivo non è emozionare ok non è comunicare qualcosa ma è eseguire bene il gesto tecnico e raggiungere quell'obiettivo nella danza l'obiettivo principale è emozionare quindi è messo al primo posto ok per cui è comunicare qualcosa la danza è iniziata nelle corti italiane prima ancora che nelle corti di Luigi del Re Sole è iniziata proprio perché lui voleva comunicare qualcosa e anche i cortigiani che danzavano quindi il voler comunicare qualcosa l'ha portato a danzare ok non il voler saltare più in alto il voler correre più veloce il voler fare un salto triplo mortale ok questa è la differenza fatemi sapere un po' anche quello che pensate voi nei commenti perché credo che sia interessante avere un confronto e siccome a volte non è facile esprimere la propria opinione e poi si viene un po' fraintesi è un po' complesso ho cercato di spiegarvelo un po' qui perché penso che sia importante e poi mi voglio confrontare con voi la danza è espressione artistica la ginnastica è espressione fisica beh sì mi rosa assolutamente vedete mi date sempre dei begli spunti sì assolutamente non c'è meglio o peggio assolutamente assolutamente sì 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 l'atleta non veicola paura tristezza angoscia è vero è vero anche questo assolutamente il ballerino l'artista in generale veicola tutti i tipi di emozioni più ne veicola più ovviamente è a un livello artistico più alto quindi assolutamente ok andiamo a caricare il secondo video perché ho dovuto spezzarli non ci stavano tutti e continuiamo 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 a guardarlo intanto mi raccomando se questa live vi sta piacendo lasciate tantissimi like e iscrivetevi qui su Twitch perché se le prossime live le faremo qui almeno abbiamo già siete già in pole position ecco allora esatto esatto la ginnasta pensa a fare bene un esercizio al fine di ottenere un buon punteggio esatto 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 che poi ovviamente emozioni e questo è poco ma sicuro andiamo avanti Daniele vediamo sono curiosa di vederlo un po' di più questo Daniele che non l'ho ancora inquadrato perfettamente che stile hip hop no vabbè aiuto beh immagino che l'abbia studiato l'hip hop perché un ballerino classico che non ha studiato hip hop non farebbe queste cose di sicuro cioè a livello di movimento non che tecnicamente sia particolarmente difficile mi piace sì 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 sicuramente mi è piaciuto è stato bravo anche perché voglio dire cioè non è proprio propriamente penso il suo pane quotidiano anche se sono quasi certa che comunque sia abbia già studiato l'hip hop perché altrimenti non è proprio possibile fare una cosa del genere questo è poco ma sicuro però devo dire che mi è piaciuto sicuramente non ha fatto una coreografia di hip hop con delle dei passi tecnici particolarmente difficili ok quindi si vede che probabilmente l'ha studiato ma magari non è a un livello altissimo per poter portare delle cose tecnicamente tanto complesse ma quello che noi abbiamo visto in questo momento è stato il fatto che lui sapeva muoversi in modo preciso ma senza pensare al passo come ha detto appunto Clady quindi con naturalezza che serve nel hip hop quindi ce l'aveva ok aveva quello che serviva per fare questa coreografia che poi non fosse super iper complessa questo è secondo me è sicuro a meno che ci sia qualcuno di voi qui che studia hip hop ad alti livelli e mi sa dire appunto la complessità di questa coreografia ma non mi sembrava nulla di estremamente complesso però è complesso se un ballerino è un ballerino che viene dalla classica dalla moderna fare una coreografia hip hop proprio per il movimento non so se vi ricordate magari Ramon che aveva avuto delle difficoltà e quindi insomma è già a buon punto diciamo ci dimostra che sicuramente è versatile ah ok vediamo un passo a due bella all'unisono bello era un pochino lontana in quella presa lì eh cioè l'ha rischiata un pochino però bello sono coordinatissimi incredibile mamma mia bello molto molto bello mi è piaciuto tantissimo sentiamo cosa dice lui e poi vi dico bello molto bello sì è vero guarda guarda tanto anche il partner per la coordinazione i piedi stesi mi piacciono comunque i commenti di Clady sicuramente sono fatti bene davvero io credo che abbia fatto un passo a due molto molto bello la cosa più bella è che erano perfettamente all'unisono Sebastian è esperto la guardava nei punti giusti e sapeva accompagnarla lei lo guardava spesso per riuscire proprio ad andare insieme ma andava bene non disturbava questo guardarsi quando uno arriva a livelli un pochino più alti quasi non si guarda più e si sente però ovviamente preparare un passo a due in così poco tempo e pretendere di non guardarsi è anche molto complesso sì li ho visti anche io i calzini Dario ed erano veramente terribili sono d'accordo con te comunque quello che sicuramente mi ha colpito è il fatto che sono andati perfettamente all'unisono cioè proprio in contemporanea per tutta la durata della coreografia quindi molto bene le prese erano belle lei riesce comunque a sostenersi bene poteva esserci un pochino più di leggerezza in alcuni punti però in generale buono e sì sono d'accordo sul fatto che possa curare di più sicuramente io non direi particolarmente la parte sotto ma tutto il corpo cioè più articolato ancora ma mi è piaciuto perché l'ho trovata diversa dal punto di vista del movimento rispetto alle coreografie che avevamo visto in precedenza che si assomigliavano diversa quindi può fare di più e questo passo 2 l'ha stimolata molto io vi dico secondo me la nuova professoressa sa valorizzare i suoi allievi almeno fino ad ora ho avuto questa impressione per cui spero che continui così davvero sono molto molto contenta vediamo giù 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 dice anche io ho trovato un po' bloccata ma magari un muscoloso rispetto risultano piuttosto nel movimento sì diciamo che anche l'altra volta quando io l'avevo vista nella coreografia mi sembrava che lei danzasse tutto sullo stesso piano nonostante si muovesse su piani diversi quindi questa sensazione l'avevo vista avuta più l'altra volta questa volta invece meno sì la rimettiamo così riguardiamo un pochino sì sicuramente articola di più la parte alta della parte bassa questo è poco ma sicuro guardate insieme ma proprio il minimo movimento e nel moderno non è così facile perché comunque il movimento è leggermente meno preciso cioè c'è un minimo di modalità di movimento più personale bella bella mi è piaciuto un sacco mi è piaciuta tanto e appunto sono curiosa di vederla in altro sicuramente questa coreografia la valorizzava particolarmente detto ciò deve un pochino più lavorare articolare la parte sotto questo è sicuro più della parte sopra secondo me vediamo adesso dovrebbe dovrebbe arrivare il prossimo ballerino fatemi sapere che cosa ne pensate sì 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 è vero c'è anche ovviamente gusto personale come in ogni cosa questo è poco ma sicuro ok quindi un bel contaminato bravo ecco il piede lì messo così un po' risalendo dal floor work va sempre tirato il piede bello molto molto bello questo è un moderno contaminato lui comunque è molto bravo sì 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 lui sicuramente non è moderno beh il piede era proprio piatto quando doveva salire sono d'accordo perfettamente è stato molto molto bravo Alessio perché ha fatto un moderno contaminato lui principalmente hip hop perché ha un bel movimento questo ragazzo ha un bellissimo bellissimo movimento che riesce a portare in qualsiasi disciplina che fa certo mancava la precisione rispetto ad alcuni aspetti più tecnici a livello appunto di utilizzo del piede quindi quelle raffinatezze che sono tipiche appunto di chi magari fa uno studio più approfondito della danza classica però comunque è stato molto molto bravo molto musicale nella seconda parte della coreografia è vero che in effetti si è un pochino più sporcato c'è da dire che secondo me ha un bellissimo controllo del core quindi della sua powerhouse è bella tenuta bella forte e questo gli permette di fare qualsiasi altro movimento vediamo la classifica sì sono d'accordo no avrei lasciato alessia per prima avrei fatto alessia rebecca no alessia rebecca chiara daniele alessio non lo so probabilmente non sta tanto bene secondo me fa fatica a muoversi vedete come ha il collo bloccato e le spalle alte per proteggere il collo comunque muove in modo grande il corpo cioè si vede che è spenta fa proprio fatica si vede no no ne avrebbe fatta anche di più di giri secondo me se fosse stata in forma è anche un po' indietro a livello musicale lo vedo molto contrariato chledi sì ma non è lei non ha ballato come balla lei di solito no no assolutamente eh ma si vede ma lei non è così non è vero è vero ma perché questa volta non stava bene sì no si vede che si sta muovendo in modo strano perché vuole proteggere il collo si vede perché balla così questa volta non era lei era un pochino indietro a livello musicale e si è trattenuta in generale anche i movimenti della testa non erano completi erano leggermente che non è del tuo stile ah non è il suo stile vabbè però comunque adesso è molto vicino al classico è molto vicino al classico questo la coreografia era molto vicino al classico al di là di questo e questa la deve sapere fare cioè adesso va ben tutto però il classico deve sapere spaziare sicuramente nel moderno e anche in qualcosa di un po' ovviamente diverso ma secondo me non era non era in forma non era semplicemente in forma magari non è riuscito a provare appunto tanto la coreografia e si è visto che non era lei cioè sembrava proprio dal modo in cui si muoveva una ballerina diversa ma vedremo la prossima settimana direi che può capitare a tutti non c'è problema quindi immagino l'abbiamo messa per ultima allora la mia classifica penso che sarebbe stata Alessia per prima forse Rebecca per seconda terza Chiara quarto Daniele quinto Alessio e forse vabbè sesta Teodora ma quasi non la calcolo neanche nella classifica questa volta perché non mi è sembrata appunto lei nella sua lanza sì forse ho dimenticato qualcuno fatemi sapere chi ho dimenticato in questa classifica voi invece scrivetemi la vostra classifica che cosa avreste posizionato chi avreste posizionato dove andiamo avanti beh la qualità generale mi sembra molto alta comunque quest'anno buona buona sì 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 sono contenta sono contenta a me non è piaciuto così tanto devo dirvi anche perché non era proprio il suo stile quindi no avrei messo prima io Alessia sì Chiara Teodora avrà messo vabbè ok dai buono tranne avrei spostato in giù Daniele no deve rimanere lei perché è la mia preferita di quest'anno per piacere per piacere non fatemelo andare via prego 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 e spero che la sfida sia la prossima settimana perché se adesso non sta bene non riesce a fare ovviamente la sfida quindi spero che rimanga comunque c'è una difficoltà molto grande nell'affrontare le sconfitte tra virgolette cioè sembra sempre una mezza tragedia questa cosa qua secondo me non è proprio super positiva poi ognuno ovviamente reagisce nel modo che vuole che preferisce siamo tutti diversi assolutamente però secondo me ci dovrebbe essere meno questa buttarsi giù così tanto e più cercare di no tirarsi su andare avanti perché il tempo che tu perdi nel disperarti per una cosa così che non è chissà che grande problema dovresti invece metterla nel raggiungere ovviamente il l'obiettivo quindi vincere la sfida scusatevi ho detto prima di mettere like ma qui like mi dice la regia che non resiste quindi seguitemi grazie scusate ma io non siamo già arrivati a 400 quindi benissimo cliccate cliccate seguite seguite grazie ecco vediamo vediamo voglio sentire di nuovo prima ah è brava brava perfetto sì sono d'accordo sono d'accordo Giorgi ho fatto anche l'intervista ragazzi vediamo bella lei bellissima che gambe bella precisione non è facile comunque questa coreografia ci vuole una grandissima articolazione delle gambe esatto proprio due passi tecnici non solo due passi tecnici questi eccola là bene bella 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 vabbè lei è stupenda c'è poco da dire aguzziamo la vista è che avere una così prima e poi esibirsi dopo non è facile non c'è la stessa articolazione la stessa linea della gamba non è male neanche la sua però vabbè Giorgi è il modello della ballerina perfetta spalle la flessibilità ce l'ha il giro ce l'ha adesso vi dico il problema facciamo così stop un secondo vi do il mio commento e poi sentiamo la cele vediamo quanto io e la cele siamo allineate allora sicuramente quello che si nota è che lei a livello di flessibilità di capacità di girare ce l'ha quindi le potenzialità ci sono quello che non ha è il fatto di saper articolare il suo corpo nel migliore dei modi al 100% e questo si vede in tutti ripetiamolo insieme perché lo dico sempre in tutti gli in step cioè tutti quei passaggi in cui non stiamo facendo nulla di tecnico ma dobbiamo muoverci in modo articolato perché è lì che si vede la qualità Giorgi articola tutto anche se sta facendo un passo anche se sta facendo una camminata anche se sta facendo un semplice giro i passi di collegamento devono essere assolutamente articolati quindi questo manca manca totalmente proprio a livello di articolazione per quanto riguarda le doti lei comunque è dotata nel senso che è flessibile appunto riesce a girare anche una linea della gamba che non è malissimo però non utilizzandole nel modo corretto anche quando c'era bisogno di fare vedere l'Andeor torniamo un po' indietro ecco vediamo ad esempio Giorgi quanto articola tutto il suo corpo anche quest'ultimo deve lopè adesso vi racconto una cosa dell'ultimo deve lopè lo riguardiamo e ve lo dico ecco qui ancora più dinamica ancora più articolazione qui più veloce la dinamica giro non è male questo è terribile Andedan in generale è bassa lei danza con tutto molto basso e quindi risulta anche come se qualcuno la stesse tirando a terra il giro è molto bello la sta tirando a terra qualcuno non è leggera non si eleva non ha tanto rebound probabilmente questo no poi non è tanto Andeor questo non è Andeor è proprio Andedan Andedan gamba dietro piegata non ci siamo esatto anche il relevé hai ragione Matteo e questo deve lopè non era bene non era bene per niente per quale motivo per il fatto che lei che cosa ha fatto quando facciamo un deve lopè parte il nostro piede con un bel flick arriviamo in passè solleviamo il ginocchio sviluppiamo la gamba lei che cosa ha fatto da qui ha cercato subito di sviluppare la gamba quindi non ha avuto questa articolazione che invece abbiamo visto in Giorgi molto molto bene per cui questo mancava un pochino in generale la vedo appunto un po' portata verso il basso come se il suo baricentro fosse molto in basso e inoltre non aveva appunto questo relevé come ci ha detto Matteo cioè il relevé proprio questa ampiezza l'altezza della mezza punta che ti poi ti porta ad avere una figura più alta mancava e quindi non tanto bene adesso vi metto l'accelentano più che amateur questa parola no non direi proprio amatoriale però vi ho spiegato cioè sì in questo punto sì però non la definirei una ballerina amatoriale ma cosa vuol dire per la danza ecco brava perché non si sa mai beh sì se devi vedere queste doti lo devi vedere bene beh grazie doveva vedere le sue linee non doveva avere un abbigliamento che le giovasse no però il costume di Alessia era giusto per la coreografia che doveva fare questo è giusto per la coreografia che deve fare lei per cui esatto e soprattutto era un compito quindi tu nel compito vieni messo a nudo tra virgolette appunto a parte che l'ha già messa perché l'ha coperto il viso è la cosa più bella nel senso che è più espressiva esatto ogni coreografia è diversa non è assolutamente per sminuire è una coreografia in cui dovevamo vedere quanto lei avesse le basi della danza soprattutto a livello anche appunto di articolazione del corpo e se io copro le gambe non lo posso vedere cioè non ho i raggi X sotto il pantalone quindi è un compito che ha uno scopo che non è quello di mettere in difficoltà imbruttendo ok è di mettere in difficoltà per far crescere chiaro o comunque secondo me non è che voleva mettere in difficoltà voleva vedere ok queste basi queste basi si vedono facendo questi passi avendo questo costume quindi non è questione di sminuire in questo caso cioè da qualche parte dobbiamo capire come sono fatti questi allievi non era facilissima per una persona che fa magari solo moderno era facile per uno che fa magari classico e moderno ecco non molto scarsa però mancano mancano un po' di cose beh che la tecnica non sia un'opinione questo è poco ma sicuro al di là di questo al di là di questo comunque non era un compito ovviamente per sminuirla era un compito perché dovevamo vedere appunto le basi se le aveva o non le aveva e secondo me un po' l'accelentano ha ragione nel senso che nel modern non è che dici wow e quindi vuole capire un po' rispetto anche alle sue basi dove può arrivare che cosa può fare e così via quindi secondo me il compito andava andava benissimo sì sicuramente ha dei margini di miglioramento assolutamente però deve fare proprio un tipo di lavoro specifico per riuscire proprio a ad arrivare a migliorare questo è sicuro andiamo avanti adesso abbiamo la sfida di Sienna vediamo vediamo speriamo che almeno si sfidino su qualcosa di simile ma già non mi sembra molto eccola novità di quest'anno ragazzi una novità wow mamma mia secondo me dorme lì dorme dietro le quinte cambiamo un po' questi giudici che almeno uno può dare anche delle opinioni diverse no? no vabbè è particolare il movimento che ha questo ragazzo sembra una molla eh questi li esegui benissimo qua non ci vuole essere specifici nello stile cioè bravissimo da questo punto di vista ma wow no vabbè è bravissimo forse è ceduto leggermente alla fine ma incredibile sì step up 2 veramente bisognerebbe capire se lui è solo nella break dance o se a livello di pop sa fare di più e poi se sa spaziare anche in altri stili però cioè wow in questo caso lui in questo stile secondo me è top ma dai bisognerebbe eh esatto ho paura anch'io che non va bene perché magari non è versatile ma veramente è ma proprio veramente un vero breaker bravo sì bisognerebbe capire la versatilità bisognerebbe vederlo in altro se no è difficile secondo me è di madrita musica non è sempre per far commenti ma è a livello di danza ha già cambiato il lavoro delle gambe a lui piace a Garrison mi piacciono queste coreografie mi piacciono queste ballerine quindi la sceglierà di sicuro sì sì ha già iniziato a lavorare in modo diverso perché la gamba ha già cambiato forma di Sienna si vede tantissimo soprattutto una parte della coscia ma allora io credo che abbia pochissimo senso andare a confrontare questi due ballerini perché non c'entrano assolutamente nulla l'uno con l'altro ma proprio niente del niente e quindi è difficile anche dire cioè sia un'eccellenza per davvero non è una ballerina moderna oddio Garrison sta facendo un discorso sensato comunque non c'è il danzatore da nessuna delle due due parti no nel senso sì allora il discorso suo non era male nel senso che è vero cioè togliendo i tricks che cosa rimane punto di domanda questo è giusto il fatto è che da una parte non sappiamo se lui sa fare altro altri stili non sappiamo se è versatile dall'altra ripeto cioè lei per me non è una ballerina nel senso proprio della modalità di movimento e quindi vabbè lasciamo perdere non ho capito il commento che ha fatto va bene lo stesso lasciamo perdere comunque anche lei appunto faccio fatica a vederla come una ballerina quindi non lo so mi piacerebbe vedere un compito della Celentano sicuramente le darà qualche compito ne sono quasi certa ah ok gara di ballo gara di ballo vediamo vediamo bravo mi piace lui mi piace i lavori che fa mi piace le sue coreografie mi piace mi piace però siamo sempre lì ci sono sempre comunque abbastanza gli stessi sarebbe bello vedere altri anche per vedere sentire altre opinioni però vabbè ah ok le coreografie erano già state assegnate praticamente ok quindi ovviamente lui va anche un po' a giudicare il lavoro che è stato fatto in sala che noi non abbiamo visto ovviamente che però dovrebbe tradursi in quello che vediamo poi adesso non ho capito non sto capendo tanto bene la musicalità non mi è piaciuto tanto non mi è piaciuto tanto non ho capito la musicalità di questa coreografia non ho capito per niente la musicalità di questa coreografia e lui comunque era molto impreciso io lo preferisco nell'hip hop nell'hip hop ha un movimento strepitoso il contaminato non tanto i piedi ragazzi dove stanno buono il salto anche l'arabesque buono il giro questo no molto male il coupe gt ma i piedi non li sta tirando per niente proprio per niente ma allora a livello di utilizzo articolazione del piede non ci siamo ma proprio non so non ho visto questo bell'utilizzo felpato eccetera e alcuni passaggi non erano proprio il top buono l'accento ma sti calzini proprio ci tormenta per tutta la puntata vi do io un paio di calzini non tanto bene il giro eh comunque questa è impegnativa tecnicamente sì lei è sempre molto bassa allora c'è da dire che erano coreografie cariche di tanto tanti elementi uno dietro l'altro tante dinamiche diverse velocità differenti ma erano impegnative io li ho visti tutti in difficoltà e questo non lo sapevamo però probabilmente vedi probabilmente allora questa gara mi piace quindi anche questo cambiamento mi fa molto piacere scusate nel senso ok stava ribellando tutto il video allora mi fa piacere questa gara di ballo perché non è come le solite gare di ballo che facevano gli altri anni ovvero prendo un oggetto ci danzo insieme che sì possono essere interessanti alcuni per alcuni tratti alcune potevano essere interessanti però vi dico cioè io la maggior parte delle volte le schippavo sinceramente perché non è che mi facessero così impazzire allora è interessante perché perché lui li ha visti lavorare in sala li ha portati avanti gli ha insediato la coreografia l'ha lavorata e l'ha portata poi a arrivare in scena in poco tempo quindi in poco tempo possiamo vedere anche tantissime doti del ballerino cioè se riesce ad imparare velocemente se è generoso cosa significa essere generoso con un coreografo o con un insegnante significa mettersi completamente a disposizione ed essere una spugna quindi cercare di assorbire tutte le correzioni che arrivano gli stimoli che arrivano farli propri e darli esternarli quindi arrivo sono pronto a tutto voglio cercare di spaziare dappertutto mi dimentico dei miei limiti ok e cerco di farmi guidare dal coreografo in modo tale da arrivare in alto il più in alto possibile arrivare all'obiettivo se invece io entro in sala e dico io sono bravissima nei giri non sono molto bravo nei salti vado lì con quell'idea tutti i giri magari li farò anche forzatamente senza ascoltare il suo feedback e i salti magari li farò a prescindere male perché non mi vengono quindi questo significa no? deve essere un dare avere tra il coreografo e il ballerino quindi sicuramente lui ha visto il modo in cui loro hanno lavorato in sala io faccio fatica vi devo dire a scegliere uno dei tre perché sinceramente tutti e tre avevano qualcosa che non andava bene ok Alessio non mi è dispiaciuto perché comunque era qualcosa che non era nel suo però era molto impreciso quindi non lo so Daniele vi ripeto ha dimenticato tutti i piedi ma completamente dimenticati forse perché la coreografia era veloce con tanti elementi uno dietro l'altro se le ha scordati proprio la lasciati a casa e strano perché comunque lui dovrebbe controllarle perfettamente e Rebecca mancava qualcosa mancava qualcosa non c'era proprio quello che ci doveva essere sicuramente era una sfida una gara molto molto sfidante quindi non semplice però non lo so non sarei riuscita a scegliere avrei avuto bisogno appunto di vedere anch'io magari il loro atteggiamento in sala anche perché poi sono tre coreografie diverse quindi è anche difficile metterli uno vicino all'altro per noi per lui no perché ci ha lavorato quindi assolutamente però per noi un pochino più complesso allora che dire ragazzi io sono molto contenta di aver fatto questa live è stato un esperimento vi dico io mi sono trovata benissimo mi è piaciuto tanto per cui se anche a voi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti così vediamo un po' che cosa che cosa nascerà appunto nelle prossime live mi confronterò ovviamente anche con Ale perché di solito queste live le facciamo insieme continueremo a farle insieme e ovviamente capiremo su che piattaforma in che modo ma voi seguiteci sui nostri canali youtube instagram così sapete siete aggiornati sempre e poi iscrivetevi sia qui se seguite qui e vi iscrivete negli altri canali vi arrivano poi anche le notifiche se le attivate allora i spezzoni di questa live lì probabilmente li metterò anche un pochino su youtube così li potete riguardare e avere insomma ecco allora volevo leggere questo commento di Dario Lea secondo te Alessia può fare qualcosa di modern nel passo visto degli elementi vicino al modern o sbaglio hai proprio ragione hai proprio ragione secondo me sì c'erano dei giri c'erano dei salti sì sì dei developé degli slanci assolutamente secondo me sì secondo me lei qualcosa di modern potrebbe farlo perché ha un bellissimo movimento quindi io vi dico che secondo me assolutamente sì Sofia sì ti risponderò ho sempre tanti messaggi quindi portate pazienza io rispondo a tutti con il tempo quindi appena riesco ma arrivo da tutti non preoccupatevi allora è stato interessante grazie mi fa molto piacere le troverai troverai degli ispezioni su youtube quindi non preoccuparti potrai recuperarli lì bene eh sì lo so infatti è un pochino più semplice ovviamente anche per noi perché riusciamo a lasciare il video lungo e così via assolutamente allora Mattias eh usciranno spezzoni della live non uscirà un video questa settimana perché come ho detto all'inizio ma forse non eri ancora collegato da domani succede qualcosa di particolare per due settimane succederà qualcosa di particolare e quindi dovete continuare a seguirmi soprattutto su instagram in cui mostrerò live quello che sto combinando per cui ecco eh ci saranno due settimane un po' di di diverse dal solito ma poi tornerò sempre con Ale e capiremo dove dove fare queste live però devo dire che questa sera era una prova ed è andata molto molto bene per cui io sono molto molto felice e vi ringrazio tantissimo ovviamente quindi nulla vi mando tanti baci siete stati proprio bravi a essere qui con me e insomma anche a confrontarci tantissimo per cui sono sono super contenta e ci vediamo presto presto seguitemi è l'unica cosa che vi posso dire è seguitemi grazie grazie a tutti un bacio ci vediamo prestissimo grazie a tutti